Hanno partecipato a 900 ore di formazione tra lezioni in aula e stage. Sono i 16 allievi di Medea, il corso per operatore grafico multimediale organizzato dalla cooperativa Zeffiro e finanziato dalla regione toscana. L'evento finale del progetto si è svolto al cantiere Giovani di Lucca. L'occasione non solo per premiare ragazzi che si sono impegnati con attitudine e passione ma anche per dare uno sguardo al futuro tramite la presenza di molti professionisti del digitale che, moderati dal presidente di Zeffiro, Mirko Trielli, si sono confrontati sulle prospettive del settore nei prossimi 15 anni. Con un messaggio preciso a tutti, soprattutto ai ragazzi che hanno frequentato Medea, per rimanere nel mondo del lavoro è necessario restare sempre aggiornati. Medea è stata importante per far attivare nei ragazzi la curiosità e l'autonomia, la voglia anche di mettersi in gioco. Questo è stato possibile soprattutto grazie a un lavoro incentrato proprio sulle esperienze e sulla pratica, svolto anche col lavoro di stage e la collaborazione con le aziende. Quindi un ponte tra formazione e lavoro che permette poi di giocarsi la carta vincente per il futuro. Dunque la cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi e la visione dei lavori conclusivi dei 16 allievi che come test finale hanno dovuto preparare un piccolo video che in 30 secondi riassumesse le competenze acquisite durante il corso e le loro aspirazioni. Un video da guardare magari tra qualche anno per capire quanta strada da ora saranno riusciti a fare.